fondamentale quindi dovete cercare di bisogna cercare di agire da questo punto di vista è possibile farlo e voglio darti le istruzioni in questo video per smettere di non essere in grado di farti amare e finalmente imparare diciamo a farti amare imparare a sviluppare amore imparare a sviluppare sicurezza in te stessa che credo che siano le cose fondamentali per la nostra vita quindi cerchiamo di capire che cosa fare cerchiamo di capire cosa fare e cerchiamo di capire come farlo per produrre amore produrre amore sicuro amore che ci faccia stare bene amore che ci faccia vivere bene perché l'amore è un'energia è un'energia di vita fondamentalmente senza l'amore non si vive senza l'amore perlomeno non si vive bene senza l'amore si vive male quindi imparare a sviluppare questa caratteristica diciamo la sicurezza in noi stessi è un punto fondamentale allora cosa dobbiamo imparare a fare allora dobbiamo intanto smettere di pensare troppo perché la maggior parte di voi malgascione di voi carampane pensa troppo all'amore e quindi tu inizia a pensare ma perché non mi ama ma perché qua ma perché là e questo ti porta soltanto dei malefici salutiamo anche la nostra betty cottage aspettate che mi chiave un po di persone che abbiamo roxy rosa perché anche qua vale la regola che chi fa l'abbonamento al canale chi fa l'abbonamento al canale che abbiamo anche gina viene diventa moderatore quindi iniziamo a mettere un po di moderatori allora vedo iscritti al canale essenzialmente soltanto gina e roxy e quindi e anche rosi quindi vediamo anche rosi giungico moderatore dovrebbero essere aggiunti come moderatori gina roxy e non ne vedo altri gina roxy e rosi provate a scrivere provate a scrivere dovreste essere moderatori prova a scrivere anche rosi ok quindi chi vuole anche qua l'abbonamento costa pochissimo diciamo è veramente meno di un euro chi vuole diventare moderatore e anche dare un sostegno al canale ovviamente essere chiavato basta che fa l'abbonamento base allora c'è l'abbonamento qua non so allora cerchiamo di capire la prima cosa è smettere di pensare troppo devi imparare a liberarti abbiamo anche la nostra betty cottage aggiungiamo moderatore dobbiamo imparare a liberarci diciamo dobbiamo imparare a liberarci dai dal vortice di pensieri spesso questo vortice di pensieri ti tiene sveglio durante la notte è un punto fondamentale poi dobbiamo imparare a sviluppare la sicurezza in noi stessi quindi strategie per avere una mentalità vincente ma devi anche imparare a sviluppare basta che fai l'abbonamento anche tu sei moderato anche tu l'abbonamento qua costa veramente poco potete fare tranquillamente l'abbonamento e siete moderati quindi imparare a sviluppare l'intelligenza emotiva è un altro punto fondamentale affinare la capacità di riconnettersi con la nostra parte emotiva è molto molto importante e poi diciamo imparare anche a meditare il mindfulness è un'altra abitudine fondamentale per per fare questo dobbiamo o dovete imparare diciamo anche a sviluppare un'autostima solida e tutte queste sono sono diciamo pratiche fondamentali che adesso andremo a vedere come sviluppare intanto come dicevo devi smettere di avere delle frasi negative perché le cose che dici hanno un'influenza sulla tua vita se tu hai una vita di merda è perché ti dici delle cose di merda fondamentalmente e purtroppo le frasi che ripeti ti limitano ti rendono le frasi che ripeti le frasi le frasi che che tu ripeti sono delle frasi che ti massacrano fondamentalmente questo è un punto fondamentale perché se tu continui a dirti e non posso e ma non mi vuole e sono sempre sfortunata in amore incontro sempre le persone sbagliate e ma nessuno mi vuole oppure quella persona lì non mi vuole mario non mi vuole uno sono abbastanza bella per questo non sono abbastanza intelligente per quello ma vaffanculo se continui a dirti queste cose non riuscirai mai ad attrarre nella tua vita nessuno se continui noi se vogliamo attirare amore dobbiamo sviluppare sicurezza noi stessi dobbiamo smetterla di dire dei pensieri negativi non sono in grado non mi merito l'amore questa persona è troppo per me sono sfortunati in amore se tu continui ripetiti queste cose mangerai merda mangerai merda di continuo mangia di pure la merda perché basta che non ti lamenti ci sono molte frasi che la nostra vocina dice dentro e queste frasi hanno un potere su di noi hanno un potere su di noi queste molte altre frasi possono condizionare negativamente la nostra vita quindi noi dobbiamo imparare a migliorare noi stessi dobbiamo imparare ad aprire la porta del successo ad aprire la porta della felicità e possiamo farcela però dobbiamo impegnarci tanto come prima cosa dobbiamo smettere di rimuginare perché ogni volta che tu stai rimuginare su qualcosa te lo prendi in quel posto perché se tu inizi a pensare a rimuginare ma come mai e ma perché e ma allora facciamo diamo subito delle applicazioni pratiche per voi carampane per voi margascione facciamo subito una cosa pratica allora inizia a scrivere prenditi un foglio anzi prenditi un'agenda anzi dovreste sempre avere un'agenda voi carampane dietro non un'agenda elettronica che non siete in grado di gestirla un'agenda diciamo un foglio un'agenda non elettronica ma un'agenda diciamo che non si è elettronica quindi un'agenda manuale e scrivi dieci pensieri che hai avuto oggi quindi dieci pensieri che ti sorgono spontaneamente non cercare di bloccarli prova a fare questo esercizio prova a fare questo esercizio prendi st'agenda e i primi dieci pensieri quando appena ti viene un pensiero scrivilo prova a fare un elenco di dieci per almeno dieci pensieri che sorgono spontaneamente nella tua mente allora e vedrai che magari alcuni pensieri sono utili alcuni pensieri sono potenzianti altri pensieri sono inutili altri pensieri saranno depotenzianti 10 pensieri non sono tanti tenendo presente che sapete quanti pensieri avete al giorno mediamente gli esseri umani hanno 60.000 pensieri al giorno io ve ne faccio scrivere solo 10 perché sono magnanimo ma voi pensate noi pensiamo circa 60.000 pensieri al giorno e la maggior parte di questi pensieri sono pensieri spazzatura e la maggior parte di questi pensieri sono merda è come se voi mangiaste merda perché mentre la nostra mente si nutre di pensieri che provengono dall'esterno il nostro corpo si nutre di cibo allora pensate 60.000 pensieri e la maggior parte è merda è come se voi mangiaste e come se voi mangiaste merda fondamentalmente merda tutti i giorni ora se tu mangi merda tutti i giorni prova a mangiare merda prova a diventare una mangiatrice di merda proprio merda fisica diciamo e ti riempirai di battere ti riempirai di virus no perché noi non siamo strutturati per mangiare merda eppure la mangiamo mentre invece come dire ci riempiamo di pensieri di merda e questo ci questo è qualcosa no non dobbiamo capire che i pensieri spesso non provengono da noi anzi non provengono mai da noi ora ogni giorno scriviti ogni giorno scriviti 10 pensieri e poi quando ti accorgi questa è una cosa importante quando ti accorgi di avere un pensiero negativo quando ti accorgi di avere un pensiero negativo sfida questo pensiero inizia a dire ma è veramente così come questo pensiero oppure è solo una mia interpretazione che potrebbe essere cambiata posso utilizzare un altro pensiero è veramente così vai a sfidare quel pensiero ora questo lavoro però devi farlo tutti i giorni perché poi vedrai che i pensieri che emergeranno basta segnarne 10 al giorno vedrai che ce ne saranno anche tanti ripetitivi ripeterai le stesse cazzate tutti i giorni e ogni volta che tra questi 10 pensieri ne emerge uno di negativo mettici pensieri positivi dentro ovviamente noi non possiamo fermare il flusso di pensieri a parte che nella meditazione in alcuni tipi di meditazione noi possiamo sviluppare la consapevolezza senza pensieri possiamo imparare la consapevolezza senza pensieri ma abbiamo comunque anche se non possiamo bloccare i pensieri abbiamo la responsabilità di gestire e di guidare i pensieri in modo costruttivo come il bravo contadino come il bravo contadino tu che sei una contadinotta che cosa fa il bravo contadino il bravo contadino semina semina ma prima di seminare deve togliere le erbacce prima di seminare deve arare il terreno deve coltivarlo deve diciamo ararlo concimarlo innaffiarlo togliere tutte le erbacce tutte le erbacce sono i pensieri cattivi innaffiare il terreno diciamo concimarlo ararlo sono la predisposizione ai pensieri buoni quindi predisporre uno stato di coscienza positivo e poi mettere dentro dei pensieri positivi quindi tu che sei una contadina fai applica diciamo le cose che fai normalmente quando vai a zappare il terreno vai ad ararlo vai a concimarlo tu che sei una contadina dedica anche cinque minuti al giorno diciamo almeno a prendere atto dei pensieri che hai nella tua testa quindi questo è un punto fondamentale questa è una cosa fondamentale salutiamo anche sissi quindi la verità scioccante sul nostro flusso di pensieri è che non abbiamo la possibilità di gestire il nostro flusso di pensieri ma possiamo non possiamo arrestarlo ma possiamo gestirlo e possiamo sfidare i pensieri negativi quindi questo è un lavoro che devi fare fallo tutti i giorni ovviamente i nostri ci sono anche dei trigger ad esempio delle situazioni che magari innescano innescano dei pensieri la rosi ci informa che scopa e vabbè fai bene a scopare rosi se scopi avrai un godimento comunque dobbiamo identificare identificare le situazioni i pensieri le emozioni che innescano i pensieri compulsivi perché spesso molti pensieri sono compulsivi eh lo so rosi sai che uccello di rovo se ti trovo ti provo è come voi malgascione vi scopate pure il prete dite uccello di rovo se ti trovo ti provo e via comunque dobbiamo prendersi il tempo prenderci il tempo per riflettere su che cosa provoca i nostri pensieri quali sono i trigger quali sono le circostanze quali sono le situazioni della nostra vita quali sono le situazioni della nostra vita che ci scatenano questi pensieri negativi quindi altra cosa importante è eliminare totalmente i pensieri preoccupazioni future o rimpianti del passato è inutile che stai a rimpiangere il passato se in passato avresti dovuto fare delle cose e non le hai fatte è inutile che stai lì a lamentarti e ma se gliel'avessi data oppure e ma se non gliel'avessi data sia che tu gliel'hai data sia che tu non gliel'hai data ormai o gliel'hai data o non gliel'hai data non è che puoi cambiare più quello che hai fatto nel passato oppure e ma se e ma se l'avessi lasciato e ma se avessi fatto questo non devi stare a rimpiangere il passato non devi stare a preoccuparti del futuro agisci nel presente agisci nel presente quindi e tra l'altro cerca di utilizzare soltanto dei pensieri realistici ora quindi un altro esercizio che devi fare è stare 5 minuti al giorno totalmente concentrata sul tempo presente questo è molto importante 5 minuti al giorno totalmente concentrata sul tempo presente quindi esatto alea yakta est come diceva Giulio Cesare quando doveva attraversare il rubicone alea yakta est il dado è tratto alea yakta est Giulio Cesare sul rubicone quando doveva attraversare l'attraversato il dado è tratto alea yakta est e questo è un punto molto importante questo è un punto fondamentale devi essere concentrata sul tempo presente devi dedicare che lingua è? latino nurant alea yakta est Giulio Cesare parlava in latino nurant spesso abbiamo dei pensieri compulsivi dobbiamo dedicare 5 minuti al giorno per praticare la consapevolezza del tempo presente vedrai che la tua mentalità inizierà a cambiare la tua mentalità inizierà a cambiare devi quando arriva un pensiero compulsivo prova a distrarti datti una martellata su un dito e vedrai che quel pensiero compulsivo se ne andrà perché prova ogni volta che hai un pensiero negativo e questa è tra l'altro è anche un ancoraggio emozionale interessante questo perché eliminerai per sempre pensieri negativi se hai il coraggio di farlo ogni volta che hai un pensiero negativo prendi il martello una martellata sul dito avrai una mano gonfia così diciamo al giorno però vedrai che i pensieri negativi spariranno completamente dalla tua mente spariranno completamente dalla tua mente se ti dai una martellata sul dito ogni volta che hai un pensiero negativo vedrai che i pensieri negativi inizieranno a sparire inizieranno a sparire inizieranno a sparire e no la martellata devi dartela a te perché ogni volta che hai una martellata sul dito ti dai un rinforzo negativo quindi pensieri negativi e ogni volta che hai un pensiero positivo datti una gratificazione ogni volta che hai un pensiero positivo che ne so, concediti una gratificazione, qualcosa che ti gratifichi fondamentalmente, questo non lo so, ti puoi concedere un qualcosa di positivo, ti puoi scopare l'idraulico ad esempio, no? Se l'idraulico merita, se invece è l'idraulico liquido non va bene, comunque questo ad esempio è un esercizio per ridurre i pensieri, ma a parte il fatto che nel momento in cui, nel momento in cui diciamo, un modo per spezzare i pensieri ad esempio è l'azione, l'azione inibisce la riflessione, tenete presente questo fatto, l'azione inibisce la riflessione, quindi se tu vuoi smettere di riflettere, agisci, l'esercizio fisico ad esempio è un modo per inibire la riflessione, scoparsi l'idraulico è un modo per inibire la riflessione, scoparsi il prete che viene a benedirti casa è un modo per inibire la riflessione, diciamo così, uccello di rovo, se ti trovo ti provo, quindi sono tutte modalità per diciamo inibire la riflessione, l'azione inibisce la riflessione. E questo è un punto importante, questo è un punto importante, quindi spezzare il ciclo dei pensieri compulsivi richiede sforzo e dedizione, però con l'aiuto di queste energie, di queste cose, di queste tecniche diciamo, noi riusciamo a ottenere questi risultati fondamentalmente, di rimanere concentrati sul tempo presente. Ovviamente Quando vogliamo pensare a qualcosa, perché dobbiamo anche pensare, dobbiamo darci dei tempi, dobbiamo darci dei tempi. Che cosa vuol dire darsi dei tempi? Cioè, quando tu devi riflettere su qualcosa, eccetera, eccetera, Beh, datti una regola, cioè imposta un timer, voglio pensare dieci minuti a Mario che mi ha lasciato, fatti un'autopenalizzazione, pensa dieci minuti a Mario, prendi una sveglia, un timer, imposta un timer dieci minuti e fatti dieci minuti di pianto su Mario. Iiii, Mario mi ha lasciato, uuuuh, dove è finito Mario, iiii, ti concedi dieci minuti al giorno di merda. Però poi, perché così un po' di merda, la nostra parte emotiva, gli dobbiamo far dare da mangiare fondamentalmente ogni tanto, però per dieci minuti al giorno. In questi dieci minuti, ti ha lasciato Mario, inizia a pensare a Mario, inizia a pensare a lì, questi dieci minuti puoi sfogarti, puoi rimuginare, puoi dire, uuuuh, come sono sfortunata, iiii, Mario mi ha lasciato, uuuuh, ma io voglio Mario, iiii, ma io lo amo, uuuuh, qua, là. Oppure fai come Rosi che fa venire l'idraulico alle dieci e quindi puoi far venire, puoi venire assieme all'idraulico alle dieci. E con dieci minuti, dalle dieci alle dieci e dieci, ti trombi l'idraulico e hai risolto il problema. Questo è un altro modo semplice, no, per ottenere dei risultati. risultati. Quindi però questa tattica dei dieci minuti è una tattica fondamentale, perché ti concedi dieci minuti al giorno di pianti. Ti concedi dieci minuti al giorno perché così la tua parte emotiva capisce che c'è quello spazio e deve prendersi deliberatamente quello spazio di dieci minuti al giorno di pianti, di rotture di colori, ma solo dieci minuti al giorno. Il resto del tempo no. Il resto del tempo no. Dieci minuti puoi veramente dedicare, dieci minuti al giorno di pensieri di merda, non di pensieri positivi, di pensieri di merda. Dobbiamo avere 23 ore e 50 minuti di pensieri positivi e poi dieci minuti al giorno di pensieri di merda, di pensieri di merda. Questo è un punto fondamentale. Quindi dobbiamo, diciamo, identificare anche poi quelle che sono le nostre paure. Ecco, prova a scrivere, prendi un altro foglio, oppure la stessa agenda di prima, perché chiamala agenda dell'autostima, no? E' importante avere questa agenda. Prendi un'agenda e scrivi le tue paure. Quali paure hai in questo momento? Quali paure hai? Eh, un settantenne per te è un po' troppo giovane, Rosi. Per te ci va almeno un'ottantenne. Sei vecchia come il cucco. Rosi è vecchia come il cucco. Cazzo vuoi? Un uomo di settant'anni è troppo giovane per te. Per te ci va almeno di ottanta. Quindi la nostra Rosi è una vecchia bacucca. Dice che c'ha 48 anni, ma in realtà ce n'ha almeno 30 di più. Quindi quello che devi imparare a fare, quello che devi imparare a fare, è affrontare, affrontare i tuoi, le tue paure. Inizia a scriverle su un foglio di carta e inizia a guardare queste paure e inizia a riflettere su come queste paure stanno influenzando le azioni che fai, stanno influenzando le tue decisioni. E' molto importante questo perché le paure anche devi imparare a gestirle. Devi imparare a gestire le tue paure. Una cosa molto importante, ad esempio ho fatto il video prima sulla meditazione, è molto importante, è molto importante diciamo imparare a meditare. Imparare a meditare è un punto molto importante. Ma anche semplicemente il mindfulness, ma comunque ci sono diverse forme di meditazione, eccetera, eccetera. E questo è un altro punto fondamentale, no? Perché noi dobbiamo eliminare tutte le cose, le situazioni negative e quindi eliminare il flusso negativo dei pensieri. Quindi perché nella nostra mente è come se ci fosse una chat, no? Le chat che avete voi sul gruppo delle vostre cose. Beh, la paura fisica dell'aereo. Beh, la paura fisica dell'aereo, tutto sommato, è una paura fisica. Ma chiediti cosa c'è dietro. Perché poi ci sono persone che hanno altre paure, fondamentalmente. Ci sono persone che hanno altre paure. Ad esempio la paura di essere abbandonati, la paura di rimanere da soli, la paura di non essere, diciamo, amati, la paura... Ma quella è la paura della povertà. La paura della povertà è anche una paura che hanno gli esseri umani. La paura di non riuscire, la paura di non conquistare. Ci sono tante, ci sono tante, diciamo, ci sono tante paure che noi abbiamo. Le paure fisiche, la paura di guidare, che ne so, di andare sull'aereo, di fare queste cose qua, tutto sommato sono quelle più gestibili. Però cerca di capire le tue paure più profonde. La paura di morire, ad esempio, la paura della malattia, sono tutte cose fondamentali. Quindi la meditazione è comunque qualcosa di fondamentale. È importante anche creare un ancoraggio emozionale, no? Un ancoraggio emozionale cos'è? È una sorta di condizionamento, no? Ad esempio, potresti usare la parola BASTA! Quando vedi dei pensieri negativi, puoi ripetere dentro di te BASTA! Oppure STOP! Oppure FANculo! Identifica una parola che ti serve, che ti serve, diciamo, per bloccare i pensieri. Cioè, devi praticamente imparare, no? Inizia a dire questa parola quando elimini un pensiero, quando sostituisci un pensiero. Quindi è molto importante anche questo. È una tecnica che funziona molto bene. Questo ti aiuterà a non rimuginare, a non rimanere intrappolata o intrappolato nei pensieri negativi. Quindi, da un punto di vista pratico, è importante tenere il diario. È importante meditare. È importante fare esercizio fisico. È importante essere focalizzati sul presente. È importante interrompere i pensieri. E poi, su cosa, con che cosa devi sostituirli, questi pensieri che elimini? Beh, quello che suggerisco io è il pensiero di gratitudine. È il pensiero di gratitudine. Cosa vuol dire il pensiero di gratitudine? Il pensiero di gratitudine è... Cos'è che dice Sissi? No, ma Rosi è troppo... Ma che cazzo dici? Rosi è una vecchia. Io... Come va bene per me? Rosi è una vecchia. È una vecchia, Rosi. Per me è una vecchia. È come... È come la Befana, Rosi. Che... Rosi è come la... È una vecchia. Devo avere la relazione con le vecchie io. Non è che c'ho il complesso della nonna, eh. Non c'ho mica il complesso della nonna io. Allora, su cosa devi concentrare... Su cosa devi concentrare i tuoi pensieri? I tuoi pensieri devi imparare a focalizzarli sulla gratitudine. Cioè pratica la gratitudine. Pratica la gratitudine. Concentrati su ciò in cui devi essere grato. Quindi questo è il punto fondamentale. È il complesso della nonna. Ce l'avrei io se... Se pensassi che Rosi andasse bene per me come età. Rosi potrebbe essere mia nonna. Quindi dobbiamo imparare a praticare la gratitudine. Concentrarci su ciò su cui siamo grati. Questo è il modo migliore per eliminare i... È il modo migliore per eliminare, come possiamo dire, i pensieri negativi. E trasformarli in pensieri positivi. Questo è il punto fondamentale. Insomma, devi imparare a diventare il regista della tua vita. Devi imparare a diventare il regista della tua vita. Questo è un punto fondamentale. E quindi imparare poi a creare nuovi pensieri. Imparare a creare nuovi pensieri. Questo è un punto fondamentale. Se tu inizi a fare questo, già hai fatto una buona percentuale di cose. Hai sviluppato grandi capacità. Hai sviluppato enormi capacità. Questa è una delle prime cose che dovresti mettere in atto se vuoi vivere la tua vita. Per raggiungere un equilibrio emotivo, poi. Raggiungere un equilibrio emotivo vuol dire anche imparare l'arte del distacco del risultato. Quindi, il primo passo è imparare anche l'arte del distacco del risultato. Imparare il distacco del risultato è fondamentale. Cosa vuol dire il distacco del risultato? Ebbè, prova, ad esempio, a distaccarti dalle tue emozioni. Tu non sei le tue emozioni. Tu devi essere distaccato, distaccata totalmente dalle tue emozioni. Una volta che impari a distaccarti dai pensieri, vedrai che riuscirai il secondo passo è distaccarti dalle emozioni. In modo tale che avrai proprio sviluppato un distacco dal risultato, che è un punto fondamentale. Sviluppare il distacco dal risultato è veramente la cosa fondamentale. Essere distaccato dalle mie emozioni, non ho paure, non ho niente, essere distaccato dai miei pensieri. Questo è quello che inizia a infondermi sicurezza dentro di me. E vedrai che nel momento in cui inizierai a infondere sicurezza dentro di te, tu riuscirai rapidamente, molto rapidamente, ad attrarre le persone. Perché tutto è molto semplice. Quando togli un qualcosa di negativo, entra un qualcosa di positivo. Questo è un punto fondamentale. Per il distacco dal risultato è anche molto importante imparare le varie meditazioni. Come ad esempio la meditazione sul respiro. come ad esempio meditazioni, diciamo, sul nostro corpo. Ci sono tante meditazioni, poi magari le faremo. Se tu riesci a fare questo, inizierai a, diciamo, ad avere una consapevolezza di te stesso senza pensieri, senza emozioni. E inizierai a sviluppare attrazione, capacità di attrarre. inizierai a sviluppare capacità di sedurre. Inizierai a sviluppare un atteggiamento vincente. L'atteggiamento vincente implica vincente in amore, attrarrai l'amore perché avrai una profonda sicurezza e fiducia in te stesso e nelle tue capacità. Questi sono gli esercizi che devi fare. Poi faremo altri video dove abbiamo questa cosa qua. No, essere distaccati dalle emozioni non vuol dire non provare le emozioni o non capire quali sono le emozioni. Essere distaccati dalle emozioni vuol dire non lasciarsi influenzare dalle emozioni. Cioè, io provo, che ne so, sento un'emozione ma non ne sono distaccato, la percepisco, la concepisco ma non influisce su di me. Cioè, posso percepire l'emozione, che ne so, della paura ma me ne distacco. È come se fosse un qualcosa di strano a me ma in effetti la paura è strana a me. Quindi, è molto importante. Non vuol dire non vivere le emozioni. Anzi, vuol dire viverle ma con distacco, non lasciarsi influenzare. Non vuol dire, è come dire, è come vivere una cosa senza rimanerne attaccati. senza restarne agganciati. Bene, ma approfondiremo. Metti un like, iscriviti al canale, attenzione,